Benvenuti su Gossip Diva, il vostro canale preferito per tutte le ultime novità e pettegolezzi delle star. Nel video di oggi parleremo di una trasformazione incredibile che ha lasciato tutti senza parole, quella di Roberta Di Padua. Roberta Di Padua, conosciuta per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha recentemente stupito tutti con un cambiamento fisico impressionante. Ma come ha fatto? Restate con noi per scoprirlo. Prima della sua incredibile trasformazione, Roberta era già amata dai fan per il suo carisma e la sua bellezza naturale. Ma nessuno avrebbe mai immaginato cosa stava per succedere. Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, Roberta ha deciso di dedicarsi a migliorare la sua forma fisica. Con una dieta rigorosa e un'intensa attività fisica, ha intrapreso un percorso di trasformazione che ha sorpreso tutti. Il culmine del suo impegno è stato rivelato sui social media, dove ha condiviso una foto in bikini nero. La sua nuova forma fisica ha ricevuto tantissimi complimenti e apprezzamenti, lasciando tutti a bocca aperta. Roberta ha voluto rassicurare i suoi fan, dichiarando Io sto bene fisicamente. Ho perso molto peso, è vero. È stato un periodo lavorativo molto intenso che mi ha consumata. Sono scesa di 10 chili in un mese e mezzo, ma ora sto benissimo. La sua trasformazione non è solo estetica, ma ha anche migliorato il suo benessere generale. Roberta è diventata un esempio di come impegno, costanza e determinazione possano portare a grandi cambiamenti nella vita di una persona. E voi, cosa ne pensate di questa straordinaria trasformazione di Roberta di Padua? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video sulle ultime notizie delle celebrità. Grazie per aver guardato Gossip Diva. Alla prossima!